Ciao! Alle mie spalle è il lago Dendine che si trova vicino al lago di Zeo. Il lago Dendine è un posto molto tranquillo e immerso nel verde. Ma allora cosa si può fare al lago Dendine? Tra poco te lo spiego, ma prima ricordati di iscriverti al nostro canale se non l'hai già fatto, di mettere un like e un commento qui sotto. A dopo! Vuoi sapere cosa si può fare al lago Dendine a parte nascondersi ed ascoltare la vegetazione? Qui al lago Dendine ci sono diverse attività che si possono fare. C'è chi fa una passeggiata a lungo lago o chi semplicemente fa due chiacchiere. Se invece sei un po' più sportivo puoi approfittare del lago per fare l'attività che più ti piace. Per esempio, perché non fare un bel giro col pedalò? Oppure puoi anche fare un giro in canoa? Oppure... c'è chi non resiste a un tuffo ed una nuotata per poi rilassarsi al sole. Un'altra attività molto apprezzata qui al lago Dendine è anche la pesca. Abbiamo quindi visto che questo lago non è tanto grande, ma ci sono tante attività che si possono fare qui. La verità però è che si sceglie il lago Dendine per godere della tranquillità e del panorama. Milano Dendine per quanto riguarda la fria di un cacchiere. Grazie a tutti.